In questo video voglio darti 5 consigli per avviare un corso di pole dance o di aerea. Il primo riguarda gli spazi. Grazie alla poliedricità degli attrezzi a disposizione, ti consiglio di scegliere la sala più bella che hai a disposizione. Rimarrà polifunzionale, potrai utilizzarla per fare tutte le altre attività, ma darai un servizio qualitativamente straordinario alle tue prossime clienti. Il secondo consiglio che ti voglio dare riguarda le attrezzature. Allora, punto primo è sempre la sicurezza. Scegli attrezzature assolutamente affidabili. Un fornitore che sia in grado tecnicamente di supportarti, un'azienda che abbia alle spalle un'esperienza per poterti spiegare anche come fare direttamente la manutenzione minimizzando i tuoi tempi di fermo per tutte queste attività. Il terzo consiglio che voglio darti è quello del target di clientela. La pole dance e le arti aeree sono degli sport che sono estremamente differenziabili dal punto di vista della tua clientela. Si può passare dai bambini alle persone molto adulte e che possono tutte trovare una loro collocazione all'interno di questo mondo. Dipende soltanto da te e dipende anche da come le vuoi inserire all'interno delle attività che già fai. Il quarto consiglio che ti voglio dare è sulla formazione. Esistono tantissimi metodi, esistono tantissimi livelli, esistono tantissime sfumature all'interno del mondo della pole dance e dell'aerea. Scegli quella più adatta alle tue aspettative. Troverai tutto e sempre un ottimo supporto. Il quinto consiglio è la promozione. Come faccio a fare pubblicità? Bene, nel caso della pole dance e delle arti aeree è molto facile perché in televisione, addirittura nelle canzoni, si parla continuamente di pole dance, si vedono nei talent, quindi questa cosa ti aiuterà tantissimo nel momento in cui scriverai nei tuoi social che fai pole dance o discipline aeree. Quindi questo più o meno è già fatto. Chiaramente i consigli in così poco tempo sono dei consigli molto molto concentrati. Se vuoi saperne di più, scrivici qui sotto ci sono i contatti e cercheremo di darti tutte le informazioni di cui hai bisogno. Ci vediamo in palestra da te. Ciao!